Scrivere su Facebook la data di partenza per le ferie è un'azione banale che potrebbe costare cara. I malintenzionati infatti potrebbero approfittarne per farvi trovare una sgradevole sorpresa al rientro. Evitare dunque di divulgare sui social network i periodi precisi delle proprie vacanze è solo uno dei tanti consigli indicati dai carabinieri per vivere con tranquillità il periodo di relax. Stare un attimino attenti alle cose che si dicono e si fanno, evitare di lasciare le chiavi, far fare le copie delle chiavi di casa a persone di cui non si ha contezza della qualità. Non dare indicazioni troppo chiare rispetto al periodo in cui si andrà in vacanza. Anche sui social, spesso e volentieri, farò 15 giorni di vacanza, parto il giorno 13. Stiamo dando troppe informazioni a chi vuole aggredire la nostra casa. Mi preme anche sottolineare la possibilità di collegare gli allarmi di casa con i numeri di emergenza delle forze di polizia, quindi il 112 o il 113, ci sono dei moduli da compilare, è completamente gratuito, non c'è bisogno di nulla, basta solamente compilare il modulo, firmarlo, portarlo nella prima caserma dei carabinieri per poter attivare il sistema. Il comandante provinciale Corrado Scattaretico ha anche illustrato gli spot nazionali diffusi dall'arma dei carabinieri per non incappare nelle ormai tristemente note truffa dello specchietto, truffa dell'incidente stradale e truffa dei finti tecnici di luce e gas.